Aiutare il commercio e nel contempo riflettere su come combattere lo spreco. Sembra una contraddizione in termini, invece, la doppia anima della Notte dei Saldi organizzata dal Comune di Pescara in collaborazione con le associazioni di categoria dei commercianti e con il Banco Alimentare, in programma sabato 1 luglio nel Centro Commerciale Naturale di Pescara, il centro città. La manifestazione dedicata all'avvio dei saldi estivi avrà un prologo venerdì pomeriggio con un convegno sulla nuova legge contro lo spreco alimentare che intende celebrare il ventennale del Banco Alimentare. Sabato sera, poi, spazio al divertimento e allo shopping con i negozi aperti fino a tardi. Un appuntamento importante concordato con le associazioni di categoria, con i commercianti, appunto per lanciare la stagione dei saldi. Sabato 1 luglio con diversi intrattenimenti nelle aree pedonali della città e poi ci sarà questa bella iniziativa col Banco Alimentare in piazza della Rinascita e poi Comicon Convention che allestirà le vetrine dei negozi con i fumetti. Insomma, un'iniziativa importante per lanciare non solo la stagione con un calendario ricco di appuntamenti nella città di Pescara che proseguirà per tutta l'estate ma anche per lanciare la stagione dei saldi che è un dato fondamentale per una città che vive di commercio come la nostra. Il focus sul centro commerciale naturale, insomma, è sempre lì l'argomento dare una mano a questi imprenditori che continuano a restare in città e a fare economia per Pescara? Sì, sicuramente. Questo è un aspetto del centro commerciale naturale. Noi abbiamo programmato e organizzato diverse iniziative nell'estate, quindi questa del notte dello shopping ci sarà la notte bianca dell'Adriatico il 22 luglio, il 12 agosto un'altra notte dello shopping che avrà più la forma di un evento diffuso e poi abbiamo messo delle risorse importanti 50.000 euro per la creazione del centro commerciale naturale che da un'unione di intenti diventerà una vera e propria realtà che concluderemo, insomma, entro la fine dell'estate per poi lanciarlo con diverse iniziative come il Lucid Artista per la fine dell'anno.